Buongiorno, volevo segnalare la situazione pericolosa della strada via Pecori-Giraldi per avvisare chi di competenza. È precisa, con tanto di foto allegata, la segnalazione a rete veneta di un nostro telespettatore. La verifica sul posto mostra come la situazione del manto stradale in questo viale di collegamento di Bassano lascia poco spazio all'immaginazione. Questa buca in particolare, piuttosto profonda, è molto pericolosa soprattutto per le due ruote. Per le bici, per fortuna, c'è a fianco la via ciclabile di adeguate dimensioni. Questo sasso, che rappresenterebbe un indubbio ostacolo alla fine, come potete vedere, abbiamo deciso di spostarlo noi. Resta la carreggiata destinata alle auto che speriamo l'amministrazione comunale possa sistemare al più presto.